Terminata la fase di reinserimento nell'ambiente naturale in un luogo protetto, sono stati liberati nell'oasi di ripopolamento e cattura di Rocca Patanua in località Prarotto di Condove quattro giovani caprioli, tre maschi e una femmina, che circa un anno fa erano stati portati da alcuni cittadini al CANC, il Centro Animali Non Convenzionali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università, convenzionato con il servizio tutela fauna e flora della città metropolitana di Torino. I piccoli erano stati sottratti inconsapevolmente alle cure della mamma ed erano giunti al centro, che ha sede a Grugliasco, verso la fine del maggio 2016. Anche se vengono allevati dall'uomo, questi animali riescono a avere buone chance nella reemissione in natura, uno perché l'istinto selvatico permane molto forte, due perché comunque questi animali che abbiamo allevato, allattato noi fin da piccoli, hanno seguito un percorso di allontanamento. Questo vuol dire che già nelle fasi di allattamento, dove anche se sono molto carini, verrebbe da coccolarli, si tende a avere meno rapporti possibili. E poi, via via, vengono tenuti sempre più lontani dall'uomo, per garantire quindi loro più possibilità al momento della reemissione. Per completare lo svezzamento, i caprioli erano poi stati trasferiti in un centro di riambientamento a Caprie, anch'esso convenzionato con la città metropolitana, che dispone di una vasta area recintata di circa 5.000 metri quadrati. A Caprie, gli animali hanno potuto acquistare il tipico comportamento della loro specie, contraddistinto da un'elevata diffidenza nei confronti dell'uomo. È importantissimo far sapere ai cittadini che non bisogna toccare gli animali quando li trovano in natura, a meno che non siano in stato di evidente difficoltà. Perché un cucciolo che può sembrare abbandonato, in realtà è solo stato lasciato in un luogo sicuro dal genitore, che poi tornerà a prendersene cura. Ogni anno il personale del servizio tutela fauna e flora libera più di 2.000 animali che sono stati rinvenuti in difficoltà e li rimette in natura. Ed è una bellissima esperienza e un grande servizio per la natura, quello svolto dal nostro personale. Tutti gli anni al nostro servizio di tutela della fauna e della flora della città metropolitana di Torino vengono consegnati dai cittadini dai 4, come quest'anno, l'anno scorso 7 piccoli di caprioli. Sono animali che vengono sottratti ai legittimi genitori e quindi noi insistiamo affinché non vengano toccati. Sono abbastanza frequenti i casi di cittadini che si rivolgono al servizio tutela fauna e flora o ai veterinari del CANC per consegnare piccoli mammiferi e uccelli selvatici rinvenuti in zone rurali o montane.